La questione dei buoni spesa sospesi dal Comune dell'Aquila dopo il pronunciamento del TAR sul ricorso di una famiglia pugliese residente all'Aquila continua a creare polemiche che non accennano a diminuire. La deputata Demma Stefania Pezzopane assicura il sostegno a qualsiasi associazione o iniziativa per tamponare questo periodo e venire in soccorso delle famiglie più deboli che continuano a reclamare questi buoni. Troppe polemiche contro il governo e poca sostanza, questo sembra essere il succo del suo pensiero. Mi adopererò in tutti i modi affinché ci siano altre risorse per le famiglie bisognose e perché i comuni e tutte le associazioni del terzo settore possano entrare in gioco per aiutare le famiglie e la povera gente. E quello che ha fatto il Comune dell'Aquila è inaccettabile, direi insopportabile anche umanamente e moralmente. Prima ha polemizzato contro il governo su queste risorse, poi mentre tutti gli altri sindaci si adoperavano per darle queste risorse di fronte a un pronunciamento del Tarra e blocca il bando e lascia alla fame 3.000 famiglie e persone richiedenti. È veramente una scelta assurda e ingiustificabile da ogni punto di vista. In merito alle dichiarazioni del sindaco Pierluigi Biondi rilasciate sull'ospedale a Rete 8 nel corso della trasmissione Fatti e le Opinioni, la Pezzopanna risponde che le aree interne e l'Aquila hanno bisogno di risposte serie da parte della regione Abruzzo. Quanto poi all'ospedale, ma come si fa a proporre come misura compensativa rispetto alla scelta dell'ospedale Covid a Pescara di cose che già erano programmate addirittura dal 2009? L'Aquila e le aree interne hanno bisogno di risposte serie dalla regione e il sindaco si deve mettere semmai alla guida di un processo di valorizzazione delle strutture ospedaliere e della medicina del territorio e non assecondare scelte sbagliate.